Credo di essere una persona semplice, aperta, positiva, nel senso di come guardo le persone e il mondo. Una scuola che guarda al futuro e ha un progetto formativo da proporre alle nuove generazioni. Incontrare le persone che lo frequentano, i docenti, gli studenti, le famiglie, conoscere le loro storie, le attese, i desideri. Perché, o se, è una scuola che punta all'eccellenza nella formazione dei giovani di oggi, se ha un progetto educativo serio, se offre stimoli culturali, se è aperta al mondo e permette agli studenti più piccoli, come i più grandi, di vivere relazioni ed esperienze significative. Grazie. 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 Grazie.